Nelle scorse settimane il segretario della CGL aveva sollecitato il sindaco Francesca Valenti a dare un segnale positivo alla città, riaprendo il parco delle terme. Nel momento in cui la cessione dei beni da parte della regione si fa sempre più vicina, Franco Zamuto torna sulla questione, chiedendo all'amministrazione di condividere con la città scelte e decisioni che riguarderanno il futuro delle terme di Sciacca. Un ampio coinvolgimento, quello che chiede la Camera del Lavoro. Credo che debba essere oggi che alla regione debbano procedere proprio all'assegnazione al comune. Noi contestiamo che ad oggi non abbiamo nessuna nuova, nessuna notizia. Sappiamo per certo che questa amministrazione ha gradito molto la possibilità di poter gestire. Supponiamo che abbia un programma, un progetto per come portare avanti lo sviluppo e la crescita di queste terme. Già io ho apprezzato da parte della sindaca che ha detto che sicuramente la clausola sociale sarà una delle cose fondamentali da inserire nel bando e questo come organizzazione sindacale non può che farci piacere. Ma la cosa che diciamo è importante è capire come intendono procedere per questo sviluppo delle terme. Non c'è ancora nessun dibattito e la cosa sicuramente, visto che probabilmente oggi la regione delibererà questa assegnazione, e penso che siamo fortemente in ritardo. Penso che già un programma, un progetto debba esserci. Probabilmente già l'amministrazione ce l'ha e noi non lo conosciamo. Se ce l'ha saremmo ben lieti di poter conoscere qual è il progetto dell'amministrazione perché credo che le terme sia una cosa che riguarda tutti e quindi la politica, le parti sociali, le associazioni del territorio penso che debbano avere contezza di quello che l'amministrazione intende fare. Il segretario della CGL in realtà avanza anche una proposta rispetto al bando per l'affidamento in gestione delle strutture termali. La formulazione più che altro vuole essere anche un tentativo di aprirlo il dibattito. Peraltro è chiaro che se le ho scritte come Camera del Lavoro vuol dire che un po' è l'idea che noi abbiamo e poi vedere come realizzarla. Abbiamo esperienza di alcuni bandi che sono stati fatti a sciacca. Chiaramente si tratta di cose completamente diverse, le piscine e il pensionato. Il pensionato si sono fatti tre bandi diversi e abbiamo avuto soltanto un'offerta, mi pare che nell'ultimo bando, quindi molto poco. Le piscine addirittura sono state deserte. Il bando che è stato fatto, considerato che forse le regole erano talmente stringenti che nessuno era in condizione di poterle eventualmente prendere per poi gestirle alle condizioni poste. Noi riteniamo che è l'imprenditorialità, è l'imprenditore, è l'economia che dettano le regole. Per cui noi auspichiamo un bando aperto, molto flessibile, largo e quindi la migliore offerta. Fare in modo che non ci sia soprattutto quello che è avvenuto in questi tempi. L'unica cosa di cui si dibatte è se mantenere il complesso termale tutto unito oppure se farne spezzatino. Noi riteniamo che anche su... Io personalmente auspicherei che il complesso che insiste nel parco, magari escluso il San Francesco, possa essere unito. Cioè le piscine, lo stabilimento e i due alberghi. Intendendo anche il motel, non se ne comprende la ragione perché il motel non debba essere una struttura alberghiera qui a Sciacca. Però se ci fosse un imprenditore capace di prendere tutto il patrimonio saremmo ben lieti. Ma le piscine delle Molinelle potrebbero anche essere gestite qualora non ci fosse nessuna offerta anche dal Comune stesso, per esempio. E poi gli alberghi di San Galogero, uno è nelle condizioni in cui è, per cui non riteniamo che possa essere oggi appetibile. Però vedere come fare e se ci sono imprenditori in condizioni anche di prenderlo va bene. Ma soprattutto, mi ripeto, dobbiamo avere un bando molto flessibile, aperto, che soprattutto venga più che altro e diventi appetibile lì dove gli imprenditori sono convinti di poterli gestire. Quindi sono loro che dovranno fare il mercato, voglio dire. E che l'amministrazione deve più o meno andare incontro a quello che è lo sviluppo. Una cosa fondamentale, oggi è un momento molto favorevole, il turismo si ferma in Sicilia, non va più in Africa, in Medio Oriente. E questo per via delle vicende che conosciamo, per cui questo momento va sfruttato e va utilizzato al meglio.